Tre chilometri di scesa, vado in mollo, sai vado giù, hai dieci all'ora? No, perché è tutto guida, passa sul gradino, occhio, dura, scendi un attimo perché ci sono dei pezzi dove non ti fidi tanto, poi riparti, è veramente intimativissimo lui. Grazie per la visione! Andiamo super in panque, eh, non ti fai contare? Non, non, non ti fai contare. Grazie a tutti. Al passo del Bocco ci fermiamo, c'è una bella trattoria, una bella cena e poi vediamo com'è il tempo. E domani si riparte a spinta. È vero, partiamo vicespaio, è un'altra roba, farsi un'ora a spinta partendo da zero e avendo 100 km per l'anno, è un'altra roba. Allora, come va bene.